Buonasera al nostro pubblico televisivo e online per una puntata di A Tu per Tu in cui affronteremo uno dei temi di cui oggi si parla di più, finalmente diremo, perché il tema riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che è ormai arrivato all'inizio dei progetti cantierabili e quindi può già fare un primo provvisorio bilancio della direzione intrapresa da tutti i soggetti che in un qualche modo partecipano e decidono su come utilizzare i fondi del piano, che sono fondi ingentissimi, che risalgono alla decisione dell'Unione Europea, prima con un programma chiamato Next Generation Europe, di aiutare i 27 Paesi membri ad uscire dalla crisi economica, sociale e anche psicologica per certi versi indotta dalla pandemia. Lo faremo con l'assessore al bilancio, al personale, al patrimonio, al riunio istituzionale, alle politiche europee, il dottor Paolo Calvano, economista, che è qui con noi, che ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Un esperto, diciamo noi, di questioni economiche, visto che il PNRR ha un taglio fondamentalmente economico, ma non solo. Perché? Oltre, diciamo, all'obiettivo della crescita, il PNRR ha altri obiettivi, dico bene, assessore? Assolutamente. Il PNRR ha l'obiettivo di far sì che il Paese possa affrontare al meglio una transizione che, soprattutto sul versante degli investimenti digitali e ovviamente della transizione ecologica, ha di fronte a sé una sfida enorme, una sfida epocale. Tant'è vero che le risorse a disposizione dell'Italia con il PNRR sono superiori alla quantità di risorse che il nostro Paese ha avuto a disposizione con il piano Marshall. Quindi dobbiamo rifugire dalla tentazione di usare risorse straordinarie per fare cose ordinarie. Le cose ordinarie si fanno attraverso un adeguato utilizzo del bilancio pubblico. Le cose straordinarie si fanno in presenza di fondi straordinari. Questa è l'occasione per poterlo fare. Tra le cose straordinarie che cosa mettiamo? Ma innanzitutto creare le condizioni affinché il Paese di qui al 2035, questo sarebbe un obiettivo dell'Emilia Romagna, possa dotarsi al 100% di risorse rinnovabili per poter supportare i propri consumi di carattere energetico. Credo che la crisi determinata dall'evento bellico scatenato dalla Russia contro l'Ucraina abbia messo ulteriormente in evidenza questa necessità, ma soprattutto i cambiamenti climatici. Ci stanno dicendo che dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico dobbiamo cambiare le nostre fonti energetiche. Per questo gli investimenti che anche in Emilia Romagna stiamo facendo su questo e ad esempio il grande impulso che vogliamo dare alla realizzazione delle comunità energetiche è funzionale a far sì che i cittadini siano protagonisti essi stessi, cittadini e imprese della produzione di energia al loro consumo e per il consumo del paese. Noi stessi come Regione Emilia Romagna vogliamo creare nei nostri immobili una comunità energetica e abbiamo cominciato proprio in queste settimane il percorso per arrivare a questo, per dare il senso di come dobbiamo cambiare un po' il paradigma di riferimento. Il paradigma di riferimento, infatti si parla di transizione ecologica, nel senso della sostenibilità, si parla di rivoluzione digitale, quindi davvero di trasformazioni profonde. Ecco, mi viene da dire che siccome sono questioni abbastanza complesse, forse se ne parla poco dal punto di vista dei contenuti e della destinazione di questi fondi, o sbaglio? Probabilmente dobbiamo porre l'accento sulla capacità di usare queste risorse anche per accompagnare le persone in questa transizione. Mi riferisco in particolare a tutto il tema del digitale, che è la nuova frontiera. Mia figlia che ha sei anni molto probabilmente non farà mai più pagamenti utilizzando la carta moneta o le monete, ma lo farà utilizzando gli strumenti digitali. Dobbiamo far sì che tutta la popolazione, a scendere dalle fasce d'età e dal livello di istruzione, possa avere la possibilità di utilizzare queste risorse, sia da un punto di vista tecnologico, quindi di dotazioni, che da un punto di vista culturale. Per cui il PNRR deve investire anche in questo, anche nella formazione delle persone. Ci sono progetti che vanno indubbiamente in questa direzione. Alcuni di questi in Regione Emilia Romagna li avevamo anticipati quando parliamo del progetto Pane Internet. È un progetto con il quale in Emilia Romagna da tempo investiamo ogni anno per far sì che almeno 20.000 persone possano migliorare le proprie competenze digitali. Ora c'è un progetto straordinario in questa direzione, messo in campo anche con il PNRR, che noi vogliamo implementare. Per far sì che non siano solo le imprese, ovviamente, a crescere dal punto di vista dell'utilizzo degli strumenti digitali, ma che sia data possibilità anche alle persone di accrescere le proprie competenze. Affinché ciò sia possibile, la grande attenzione che stiamo ponendo come Regione, anche cercando di essere da stimolo verso le società che hanno questo compito, è quello di infrastrutturare il più in fretta possibile tutto il territorio, dal centro alla periferia, in modo tale che le cosiddette autostrade digitali, che sono la nuova frontiera delle infrastrutture, siano a disposizione di tutti e non ci sia quel digital divide. Ma c'è, attualmente c'è, è molto pesante. Esiste ancora e questo incide sulle scelte residenziali delle persone, incide sulle scelte di investimento delle imprese, rischiando di creare un ulteriore divario tra centro e periferia. Uno degli obiettivi che ci siamo dati è proprio questo, provare invece a utilizzare le risorse straordinarie per ridurre quel divario. Anche nelle periferie, quindi colmando i divari tra i territori, che è uno degli obiettivi anche del PNR. La strategia che noi abbiamo messo in campo sulle aree interne e che per Ferrara riguarda in particolare la parte più a est della provincia, quindi il Basso Ferrarese, il Copparese, è finalizzata a far sì che quei territori possano avere un livello di infrastrutturazione a partire da quella digitale, ma di servizi più in generale che sia, come dire, adeguata e competitiva con quelle che sono le offerte di servizio nelle zone più centrali. Lei ha toccato un tema che mi preme, insomma, affrontare con lei, e cioè hai parlato delle aree interne di questi dieci comuni, diciamo, fra Coppare e la Costa, no? Sì, esatto. Medio e Basso Ferrarese. Ci sono progetti, diciamo, di trasformazione, di cambiamento della popolazione e dei territori che hanno un senso se sono fatti insieme, no? Assolutamente. Cioè in rete, come sistema. Ecco, ma questo sta avvenendo? Cioè non c'è stato un po' troppo la corsa dei singoli comuni, per esempio parliamo della provincia di Ferrara o delle singole province, se parliamo della regione, a correre nel momento in cui uscivano i bandi per fare progetti e quindi poter ottenere i finanziamenti per i propri bandi. Non c'è stato un eccesso di competitività e anche di frammentazione degli interventi o comunque della progettazione degli interventi? Allora, a Ferrara in termini di strategia, a mio avviso abbiamo fatto un salto di qualità, è stato fatto un salto di qualità nel momento in cui si è sottoscritto tra i diversi attori territoriali, sindacati, imprese, comuni, il patto per il lavoro e per il clima con un focus su Ferrara, che ha definito una strategia dentro la quale tutti i diversi soggetti dovrebbero muoversi e tutti dovrebbero essere impegnati a realizzare quella strategia. Questo per il focus Ferrara. Questo per il focus Ferrara. Che ha altri finanziamenti, non ha i finanziamenti del PNRR. Ha più possibilità di fondi di finanziamento, ci sono quelli delle aree interne piuttosto che gli investimenti che fa la regione. Però devo dire la verità che nella costruzione delle strategie territoriali, il PNRR per come è stato impostato non ha aiutato più di tanto, perché è stata un'impostazione, e qui prescindo dalle responsabilità di carattere politico, penso a un'impostazione istituzionale, che ha previsto un forte accentramento della programmazione e della pianificazione degli interventi al centro del Paese. Nella cabina di regia, che era ministeriale, governativa. con uno scarso coinvolgimento di regioni e enti locali. Questo ha accentuato, quella cosa che lei diceva, della competizione tra i sistemi territoriali, una competizione quasi come dire disarticolata, non coordinata, e di conseguenza che rischia per alcuni aspetti di aumentare le distanze tra i territori e non di ridurle. Ed ecco perché abbiamo spesso chiesto come regioni un maggiore coinvolgimento, perché devo dire la verità, ci sono cose sulle quali siamo stati coinvolti come regioni che a mio avviso stanno avendo una buona ricaduta. Potrei citare due cose in Emilia Romagna, poi se vogliamo lo approfondiamo. Uno, relativo agli investimenti nel territorio del Parco del Delta del Po, che per la nostra regione ammontano a circa 30 milioni di euro, di cui 18 nel Ferrarese, oppure quello che stiamo facendo sull'edilizia residenziale pubblica in accordo con ACER. Cosa avete fatto sull'edilizia residenziale pubblica? Sull'edilizia residenziale pubblica avevamo un plafond di risorse che si è dato al PNRR, una parte l'abbiamo distribuita, diciamo così, equamente tra le diverse province, perché tutti hanno dei bisogni di carattere abitativo, un'altra parte l'abbiamo messa un po' in competizione a seconda dei progetti che venivano avanti. Su questa Ferrare è stata molto brava, devo dire la verità, è stata una delle province che ha raccolto più risorse e che oggi ha messo già in azione attraverso una collaborazione tra ACER Ferrara e la nostra agenzia Intercenter, che è un'agenzia che noi abbiamo messo a disposizione dei comuni per poter fare gli appalti del PNRR. La prima sperimentazione di questo rapporto nuovo tra la nostra agenzia e il territorio è avvenuta proprio tra ACER Ferrara e Intercenter. Oggi i progetti sono stati insegnati, tutti i lavori che confidiamo di finire, visto che stiamo rispettando tutti i tempi, nei tempi previsti dal PNRR e quindi non saranno risorse che dobbiamo restituire. Quindi credo che questo sia un plauso che va fatto alla collaborazione che si è creata tra istituzioni, tra il territorio ferrarese e la regione. Che è poi anche un tema importante perché l'edilizia residenziale pubblica va in conto, come dire, alla realizzazione di una maggiore equità, di una maggiore eguaglianza, diciamo, dal punto di vista finanziario e economico della popolazione. Va dentro quegli investimenti che in regione vogliamo fare perché non ci vogliamo accontentare di essere la regione, come ci viene riconosciuto da tutti, in cui la ricchezza cresce più che da altre parti. Ma il tema vero è, nel momento in cui la ricchezza cresce, siamo adeguatamente attenti a come questa ricchezza viene ridistribuita tra le persone. E quindi l'investimento nei beni comuni, a partire dalle case, ma mi viene in mente la pubblica istruzione, la sanità, i trasporti, è fondamentale per garantire coesione sociale. Bene, ci arriviamo. Però lei ha toccato un altro, mi ha fatto venire in mente, un altro punto dolente, diciamo che definirei una specie di difetto di nascita nel DNA del PNRR. presa resilienza. Ed è questa, diciamo, relazione con i bisogni dei territori. Perché i tempi sono stati talmente stretti, sia quelli, diciamo così, di definizione dello stesso piano, no? Perché nel 2020, a luglio, approvato il Next Generation, nel 2021, a luglio, l'Unione Europea accetta il nostro piano nazionale e quindi di poter dare il permesso di accedere ai finanziamenti cospicui e tutto deve finire all'interno. Cioè l'uso, diciamo, dei finanziamenti e quindi anche dei progetti che sono stati finanziati alla fine del 2026 o addirittura si dice a giugno del 2026. Entro giugno del 2026 dovranno essere rendicontate le opere. Qui è stata fatta una grande sottovalutazione nel momento in cui è stato immaginato il PNRR. Cioè arriva il massimo delle risorse a disposizione dei comuni nel momento in cui siamo ancora nella coda di quelle politiche di austerity che avevano ridotto le competenze dentro la pubblica amministrazione. Non solo, ma eravamo appena dentro questa pandemia. Oltre, ovviamente, gli effetti drammatici della pandemia. E cioè dare le medicine che sono i finanziamenti ad un malato e dire alzati e corri, non cammina. Ed è per questo che stiamo continuando ad insistere, sebbene l'abbiamo fatto fin dall'inizio, sul fatto che ci sia la possibilità dei comuni di utilizzare una parte dei fondi del PNRR per dotarsi di quel personale, di quell'assistenza tecnica che è fondamentale affinché i progetti poi vengano realizzati. Soprattutto nei piccoli comuni. Noi, nei piccoli comuni, lo guardavo ieri incontrando proprio un piccolo comune, mi ha fatto l'esempio di un vigile che oltre a fare il vigile deve occuparsi delle pratiche edilizie. Quindi capiamo bene che un comune come quello, che certamente avrà dei fondi PNRR, come farà a metterli a terra? Allora abbiamo toccato due difetti nel DNA del PNRR. E cioè quello di non avere dato tempo, come dire, alla consultazione dei bisogni della popolazione e dei territori cittadini, e poi quello di non capire se in quel momento, cioè adesso, da un anno a questa parte, le varie realtà territoriali avevano le competenze necessarie per affrontare questo ambizioso, diciamo così, per arrivare a questo ambizioso obiettivo. Ecco, da questo punto di vista c'è la possibilità di fare, come dire, di correggere, mentre già il treno è partito, alcune manchevolezze? Penso di sì. Prima cosa, riconoscendo, ripeto, la possibilità ai comuni, alle province, alle regioni impegnate nella messa a terra dei progetti, di dotarsi di assistenza tecnica in più rispetto a quella che fino ad oggi hanno avuto. Dall'altra parte, il tentativo di far collaborare il più possibile le amministrazioni tra di loro, oltre a tutto il tema della sburocratizzazione. Quest'operazione che noi abbiamo fatto come regione con Intercenter, che prima si occupava solo di appalti di beni e servizi, oggi abbiamo rafforzato e dotato di una struttura che gli consente di appaltare anche lavori e quindi metterci a disposizione di quei comuni che sono più in difficoltà, va in questa direzione. Così come l'investimento, lei citava prima la mia delega sul riordino istituzionale, volto a far sì che le unioni dei comuni, piuttosto che le province, possano mettere insieme delle centrali uniche di committenza per l'affidamento dei lavori. Ecco, sono tutte strategie, diciamo così, che possono dare un po' di slancio. È ovvio che se fosse stato fatto fin dall'inizio, forse saremmo andati un po' meglio. Noi cerchiamo di mantenere un raccordo fortissimo con l'associazione dei comuni, l'associazione delle province e quindi i loro rappresentanti, per cercare delle soluzioni ai problemi. In Emilia Romagna siamo un po' abituati così, a fronte di un problema, a non piangerci addosso, ma a cercare la soluzione. L'abbiamo fatto quando c'è stato il terribile terremoto del 2012, ormai oltre dieci anni fa, e anche di fronte alla pandemia. Ecco, però le regioni non hanno avuto un ruolo, diciamo, non dico dominante, ma insomma un ruolo decisivo nel Piano Nazionale di Represa e Resilienza, decisivo, diciamo, nell'ottica di realizzare davvero i progetti che sono necessari al cambiamento che lei ha illustrato prima. Sì, noi siamo attuatori di pochi progetti, devo dire la verità. Ci è stata data un po' di centralità appunto sulle politiche dell'abitare, su cui ho già detto, insomma, quello che abbiamo provato a fare. C'è stata data un po' di centralità su alcuni interventi di carattere ambientale e anche sulla sanità, perché obiettivamente c'è stato messo a disposizione circa mezzo miliardo di euro che Regione Emilia-Romagna ha già ripartito tra i diversi interventi e stiamo correndo per poterli realizzare nei tempi previsti. Allora, lei è arrivata a parlare di sanità, poco fa ha sottolineato come i beni comuni, la difesa dei beni comuni, e anche io aggiungo dei diritti delle persone che non sono mai date una volta per tutti, ma bisogna difenderli in modo molto attento e estrenuo. Ecco, parliamo di sanità, che il diritto alla salute è uno dei beni, diciamo così, a cui tutti teniamo moltissimo. La Regione Emilia-Romagna è sempre stata una Regione che ha avuto, come dire, anche un ruolo di esempio nelle politiche che sono però regionali e quindi sono territoriali della sanità, ma in questo momento ci sembra di vivere una sorta di contraddizione, un paradosso. Le speranze messe in moto dagli investimenti in sanità, dalla missione del piano nazionale per la presa di resilienza, della sesta missione, ci ha fatto pensare che i limiti che abbiamo sperimentato durante la pandemia sarebbero stati superati grazie a questa aggiunta di fondi straordinari imprevisti. E poi invece adesso sentiamo che ci sono, come dire, tanti elementi di criticità a Ferrara, lo stiamo vivendo con questa annunciata riforma dei pronto soccorsi. Come mettere a posto, come risolviamo, come affrontiamo questa contraddizione? È una contraddizione? È una contraddizione già innanzitutto collegata al PNRR, nel senso che il PNRR ci spinge a fare più strutture territoriali, prendendo come modello le case di comunità che già in Regione Emilia-Romagna abbiamo e che dobbiamo implementare, ma mentre il PNRR ci dice più strutture, il Fondo Sanitario Nazionale è sottodotato nel momento in cui deve mettere a disposizione le risorse economiche per poi far sì che quelle strutture possano vivere. Che non finiscano nel 2026. Esatto, e questo è un primo problema. Poi c'è un problema enorme su cui stiamo costruendo una risposta attraverso la riforma dell'emergenza-urgenza che è legata al fatto che alcune figure professionali, in particolare quelle dedicate all'emergenza-urgenza, purtroppo sono carenti, sono molte meno di quelle che servono e i percorsi di studi che sono cominciati, le iscrizioni alle diverse specializzazioni ci dicono che questo sarà un problema che ci porteremo dietro per 7-8 anni e quindi la riforma che stiamo immaginando non parte tanto in questo caso da un problema economico, ma da un problema di risorse umane a disposizione, di professionalità a disposizione. Quindi dobbiamo creare le condizioni affinché a fronte di professionalità il numero inferiore a quello di cui abbiamo bisogno, il sistema comunque funzioni. Quindi stiamo cercando di concentrarlo sui temi della proprietezza, cioè fare in modo che una persona che ha un codice bianco, un codice verde, possa rivolgersi a una struttura che possa curare quella cosa lì senza andare ad intasare le situazioni più emergenziali a cui le persone poi si rivolgono. C'è una grande delusione nei cittadini, direi proprio anche della nostra provincia, del Centese, di Cento, che perderà, secondo questa riforma, il cui ospedale perderà, diciamo, la centrale di pronto soccorso dell'emergenza per, diciamo, limitarsi ad avere un punto per gli interventi di urgenza, per la medicina d'urgenza. Adesso su questo vedremo come verrà calata su Ferrara l'impostazione di questa riforma. C'è un elemento che Ferrara oggi può vantare rispetto ad altre realtà, anzi lo può fare insieme a Parma e alla Romagna. A Ferrara abbiamo fatto partire il percorso di integrazione tra le due aziende, tra l'azienda ospedaliera, universitaria e l'ASLA. Questa cosa può consentire di efficientare al meglio l'utilizzo delle risorse umane, perché un'unica azienda può creare politiche di utilizzo delle professionalità, come dire, finalizzate a costituire delle economie di scala. Noi lo speriamo. Se ragionassero singolarmente forse queste economie non ci sarebbero. Essendoci l'azienda unica, a mio avviso, su Ferrara possiamo rispondere. Su Ferrara provincia. Ferrara provincia, Ferrara inteso come territorio provinciale, possiamo rispondere in modo ancora più efficace proprio grazie all'integrazione delle due aziende. Vengono fuori due osservazioni, Assessore, se mi permette. E cioè che quando si sbaglia una politica è difficilissimo poi riconvertire. E faccio riferimento alle politiche universitarie, quelle del numero chiuso a determinate facoltà, come quelle di sanità. Indietro c'era tutta una visione della sanità che è stata, si è rivelata fallimentare per certi versi. E dall'altra parte, la seconda riflessione che voglio stoppare con questa, concludiamo, è il ruolo della formazione. Cioè qui noi stiamo parlando di trasformazione, di cambiamenti importanti, complessi, per quanto riguarda la produzione energetica, le risorse energetiche, per quanto riguarda la digitalizzazione, la presenza di questa nuova realtà del digitale, dell'intelligenza artificiale, però sono le persone che dovranno, come dire, vivere, realizzare. Non è come indossare un vestito che ti viene dato oppure vai a comprare. Certo. Devi essere preparato. Ecco, forse su questo nuovo paradigma di una società più formata, che dà più attenzione, oltre che più risorse, alla formazione, dai più piccoli fino a quello che si chiama la long life learning, cioè una formazione per tutta la vita, forse non si dà abbastanza in partenza. Lei che dici? La transizione reale ci sarà e sarà efficace se le persone ne saranno protagoniste. E per esserne protagoniste bisogna che abbiano il massimo della consapevolezza. E questo è un ruolo che il pubblico deve svolgere. Cioè, questa transizione, in questa transizione le persone vanno accompagnate. E cosa deve fare il pubblico se non questo? Accompagnare le persone che magari da sole non ce la farebbero. E come lo deve fare se non con la formazione? Attraverso politiche, esattamente, è quello che voglio dire. Attraverso politiche di formazione, quello che stiamo facendo sul versante digitale, ad esempio, lo dicevo all'inizio, cioè di investire sull'aumento delle competenze, sull'incremento delle competenze delle persone, a prescindere da dove abitano, da quale formazione hanno, dall'età che hanno, va proprio in questa direzione. Perché i benefici enormi che può dare la digitalizzazione, anche nell'accesso ai servizi pubblici, sono reali se le persone li possono utilizzare. Perché se io creo una tecnologia straordinaria per accedere rapidamente ai servizi pubblici, ma la persona non lo sanno usare, non ce ne facciamo niente. Noi abbiamo un esempio straordinario nel ferrarese, oserei dire, in Emilia Romagna, che è la cartella elettronica, la cartella di fascicolo sanitario elettronico per ciascuno di noi. Ha cambiato la nostra vita, almeno nel mio caso. Però ha messo in difficoltà molte persone. Ha messo in difficoltà molte persone, però accompagnandole, anche nell'utilizzo di questa tecnologia che è legata a Speed e quant'altro, beh, noi abbiamo fatto fare un salto di qualità, penso, nell'erogazione dei servizi pubblici. I nonni devono andare dai nipoti. Ma a volte ci sono anche dei nipoti che vanno dai nonni. Questo mi piace, sì, sì, sì. Dunque, noi vogliamo sposare, come dire, anche la sua visione ottimistica del futuro. Credo che un amministratore debba avere una visione ottimistica, ecco, oppure nel realismo, ecco, delle politiche. E magari cercheremo proprio di prestare attenzione a questo impegno, nell'accompagnare la popolazione cittadina e i cittadini dell'Emilia Romagna verso questo cambiamento epocale, come lei ha definito. Grazie, Assessore, buon lavoro. Grazie a voi.